Ho conosciuto Ruslan di Podium e altre persone con le quali sono anche diventato amico con cui abbiamo condiviso un progetto insieme e oggi siamo qui per questo questa era un'introduzione per conoscerci meglio intanto vorrei ringraziare il museo, questo bellissimo museo l'ambasciatore di San Marino in quanto vivo anche a San Marino e naturalmente Podium Ruslan e Elena e un po' di tempo fa parlando con Ruslan che lui è un appassionato di spazio, di universo e io stavo eseguendo quella sala che avete visto prima nel soffitto e sta proprio realizzando quello che per me era il cielo, l'universo, il mio cielo, l'universo quando ho saputo che quest'anno era il 60esimo anniversario del primo Sputnik e ho avuto l'ispirazione per fare l'opera che vedrete in questi ultimi due anni ho sempre dipinto cielo e spazi naturalmente trasportati nella visione artistica mia nella mia comunicazione artistica per me guardare lo spazio, l'universo è come guardare l'universo che ognuno di noi ha dentro di sé perchè per me guardare l'universo, l'universo è come guardare l'universo che ha dentro di noi quindi questa è stata l'ispirazione per fare questa opera che sono lieto e onorato di poterla donare al museo per me è una forma di proteggere una forma di amicizia, di gratitudine nei confronti di un paese che per primo ha scavalcato le colonne d'Ercole che per primo è andato nello spazio. Praticamente è stato pioniere dell'umanità e non ce lo dobbiamo dimenticare. E questo è stato un evento non soltanto russo, un evento dell'umanità. E per me è una forma di gratitudine come dire grazie a questo è una forma di riconoscimento, di gratitudine per me come artista, ma anche come italiana e come Italia nei confronti della Russia. E per me, come italiani e come personale, è stato un signore di russi ma anche per tutto il mondo, per tutto il mondo. E per me, come italiani e come personale, è stato un signore di russi e un signore di gratitudine per la regione che ha fatto questo. E per finire, ricordo, come ha detto prima l'Ambasciatore di San Malino, la prima frase che Yuri Gagarin disse quando fu nello spazio vedo una terra bellissima apparentemente senza confini. Per me l'arte e l'umanità non dovrebbero avere confini. Quindi il mio è un messaggio assolutamente di riconoscenza, amore e pace. Grazie. 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 Grazie.